Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al secondo episodio di HorrorPrize on... Questa mappa... Adventure Horror Allora, allora, eravamo rimasti all'armeria Se non sbaglio, sì Armeria, esatto, allora Effettuare lavori al lato destro dell'armeria per fragilità muro Da fuc Ehi, buongiorno Buongiorno, qua ci sono delle ossa Benissimo Megoglioni se... Oh, che... No, questo non mi ha spaventato Ok, piano però Oh, che... Mannaggia, mannaggia Effettuare lavori su questo muro Piantatela Ho già capito Ok Hanno finito? No, no, no Non hanno finito Ok, un attimo sono off Perché sono sti merdosi qua Mi... mi... Oh mio dio Wow Qua cominciano a farsi seri le cose Ok, prendiamoci due spade Altre spade Altre spade Non dirmi altre spade Ah, no, è bloccata Trolling estremo Qua di... Ah, forse dobbiamo distruggere queste Cioè, in teoria Le spade distruggono molto velocemente queste cose Quindi... Non lo so Non... Non capisco Ah, praticamente qua vengono sparati via I blades Oddio, santo Ok Mi sa... Che dovrò far esplodere tutto con... Con... Mettiamo un pochetto di suono giusto per far mettere l'esplosione e queste cose qua Eh... Dovrò far esplodere tutto col TNT Quindi... Mettiamo la TNT Redstone Abbastanza lontana Ah, è solo quella roba lì E... Pronti per l'esplosione Attenzione, attenzione Esplode, esplode, esplode Oh Ok, esploso Ok Per... Se evitiamo di prendere tutta sta... Roba che non mi serve Allora, molliamo giù la roba che non mi serve Via Questa non serve Questa non serve Il resto me lo metto Allora Gambani Corazza E un elmo Bene, andiamo avanti Allora Torniamo a mettere la... La suona Così, va benissimo Mettiamo la suona perché... Oddio La suona Ascensore Sembra allagato Ma va Davvero L'avrime detta Se... Se non volete farmi diventare epilettico Cristo È meglio Smettere Oddio Non... Ah, qua ci sono un letto Redstone torcis Non c'è un cazzo Però Qua è allagato Ci si può Benissimo Passare Allora Piano 1 Sembra bloccato Non l'avrime detto You don't say Saliamo Abbastanza velocemente Per piacere Ah, ecco Facciamo la spada Tutto che ci siamo Ok, dai che stavo a morire Muoviti, muoviti Su, 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 su Piano 2 Sembra crollato Minchia, che cazzo di... Posta di merda Cioè, viene esploso con la tinettina Che cazzate Allora Ehm Sì Qua Sembra... Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Benissimo Chiudi qua Ciò che sembra aperto È chiuso Mmm Ok Io Io Non Ho paura Ho dannatamente paura Oh che cazzo Alla maffanculo Bastardi Mi hanno avvelinato No Non mi morire Non Non Morire No Che cazzo Piantala Ciò che sembra aperto È chiuso Non riesco a leggere fino là Sembra Non riesco a leggere Mi sa che non Non comprende la lettura Fino Fino Laggiù Allora Questa cosa mi mette un attimo In conflitto E non partire Ce ne sono ancora? No? Ok Ehm Non riesco a capire La logica di ciò Se Non è che Tira Dietro questa cosa qua C'è una Pressure plate A vedere No Non c'è Lol Fatemi pensare Fatemi pensare Non riesco a Ciò che sembra Aperto È chiuso Dietro la porta No Non riesco a capire Ehi Aspettate Ho sentito un VTGVTG O qualcosa del genere Che cosa È mai Stato Mi scrivono Su facebook No No Chiudi Ok Ehm Sì Non Oh No Ho capito Mannaggia te Burlone Ok Cerchiamo di Prima di domani Oh bene Ho anche recuperato Ok Ok Credo Che ce l'abbiamo fatto Sembra fatta Finalmente l'uscita Sì Certo L'uscita Come no L'uscita What the What the Fuck Non dirmi che ho già finito la mappa Non dirmi che ho già finito la mappa What the Fuck No Ma Ho finito la mappa What the Hell Ok Io Me la vado a visitare da fuori Ah Quello dove ero No scherzo Non ero passato Un cazzo Da qua Io ste cose qua Non riesco a farle Sono Assurde per me Beh dai ragazzi Una mappa carina Molto molto corta Si sbriga in Non so Mezz'ora 20 minuti Neanche E Ve la consiglio Perché non l'ho neanche Giocato tutto Diciamo Perché ho Come si dice Come si dice Ho Ho saltato un pezzo Come vedete Dal labirinto Insomma Quella stanza Prima del labirinto L'ho saltata Diciamo Non l'ho Non l'ho Non l'ho esplorata A fondo Quindi magari Il punteggio Non è Completo Cioè Penso proprio Che non sia Completo Perché comunque Di passaggi segreti Ne ho trovati Però Beh dai È stata Qualcosa di diverso Dalle solite mappe E Niente Vi lascio Come sempre Il link In descrizione Della mappa E Lasciate un like E Appunto Lasciatemi qualche mappa Su facebook Magari Per giocarla Oppure Non so Si per giocarla Solo per giocarla Cioè non è che Le prendo E niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti ragazzi No Quante volte ho detto ragazzi Basta Ciao a tutti